Sulla porta i disegni dei tre figli, bentornato a casa, papà sei il mio eroe. E di fatti Sebastiano Grasso, vicebrigadiere dei Carabinieri 43enne, la sera del 5 settembre scorso si è comportato da eroe. Nel tentativo di sedare una rissa sul sagrato della chiesa di Pennisi nel Catanese, nonostante fosse libero perché era il giorno della comunione del primo genito, cercò di disarmare Camillo Leocata, che sparò, farendolo al collo. Secondo me lo rifarei un'altra volta con mio carattere. No, è proprio che mi è venuto distinto. Alle spalle i calendari dell'arma non tornerà più in servizio e paralizzato dal collo in giù. Dinanzi agli occhi il mandorle in fiore, la campagna, la sua passione e il timore di dover lasciare tutto. Cambia tutto, però cercherò di non farlo pensare tanto ai miei figli. Anzi, cercare di andare a giocare, andare in giro, vedere luoghi diversi che prima non l'ho visti. Camillo Leocata è stato condannato a 17 anni di reclusione e a risarcire il sotto ufficiale con 805 mila euro. Sentenza bella ma amarla, definisce l'avvocata Miriam Condorelli, che assiste la famiglia Grasso. Del risarcimento il brigadiere Grasso non ha avuto ad oggi neanche un centesimo. I conti sono tutti svuotati, abbiamo trovato 10 euro in un conto corrente. Questo è il risarcimento che ha lo Stato, oggi, il brigadiere Grasso ha 10 euro. Si costituiranno parte civile? C'è un bonus normativo. Nei confronti delle vittime, come il brigadiere Grasso, che tutela il codice, nessuna, rimane solo un pezzo di carta.